Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio Consul Brokers SPA, Piazza della Repubblica 14-A, Campo Basso, broker di assicurazione Molise a calci Buonasera, ben ritrovati con un'altra puntata di Molise a calci, questa davvero ricca parleremo di più sport, ma soprattutto parleremo del derby di Isernia che ha offerto momenti sicuramente interessanti dal punto di vista agonistico sul terreno di gioco ci sono state le proteste dell'Isernia, il Campo Basso che ha vinto al 92esimo ma questi aspetti li abbiamo ampiamente trattati nel corso di domenica sport, ci dedicheremo anche un po' al folklore perché lì abbiamo incontrato proprio alle piane di Isernia diciamo una quarantina di minuti prima dell'incontro l'inviato di striscia la notizia Cristiano Militello quindi parleremo di questo e del prossimo turno di Serie D che si giocherà mercoledì prossimo, cioè l'ottava giornata di andata non parleremo di questo ma anche del campionato di eccellenza comandato dal Basso Girardi questo ed altro per la puntata numero 218 eccola qui inquadrata con la nostra compagna di avventura Eleonora D'Aversa buonasera Eleonora buonasera a te Gianni, buonasera ai nostri ospiti che vi presenterò tra pochissimo e buonasera ai nostri amici telespettatori io vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Molise a Calci la numero 218 e vi ricordo come sempre che potete seguirci al canale 11 per il Molise al canale 880 per il Lazio e 96 per l'Abruzzo inoltre è disponibile la diretta streaming della puntata sul sito www.telemolise.com e ancora potrete rivedere questa puntata così come tutte le altre di Molise a Calci sul canale YouTube di Telemolise colgo l'occasione ancora per ringraziare la signora Giuseppina Graziano della boutique Smeralda sita in Piazza Pepe qui a Campobasso che ha curato il mio outfit per questa puntata di Molise a Calci un outfit diciamo come dire leopardato si continua il trend dell'animale e Gianni come tu ben sai perfetto complimenti per l'outfit di questa sera grazie direi che possiamo proseguire presentando gli ospiti che sono venuti a trovarci questa sera abbiamo con noi Giorgio Barletta avvocato e sportivo buonasera Giorgio buonasera a voi buonasera anche agli spettatori e Francesco Oriente biker della Molise Tour Bike buonasera Francesco buonasera a voi buonasera a tutti buonasera ad entrambi i nostri ospiti allora Giorgio Barletta avvocato e sportivo diceva correttamente la nostra Eleonora sportivo perché? perché giochi? ancora a calcio dopo amo tutti gli sport però gioco a calcio esattamente hai visto il derby lo hai seguito non dal vivo ma che idea ti sei fatto del derby tra Iserni e Campobasso tramite le immagini di Telemolise? di un derby dominato dall'Iserni almeno per quanto riguarda il numero di occasioni però alla fine chi ha concretizzato è stato pragmatico insomma nel match è stato il Campobasso 1-0 e si porta a casa il derby ecco vorrei solo proprio una risposta telegrafica da te sul pallone entrato o meno perché abbiamo avuto nel corso di Domenica Sport delle testimonianze visive anche provenienti dalla tribuna dei tifosi del Campobasso di un'immagine zoomata proprio sulla parata di Landi al momento in cui il pallone supera la linea bianca l'abbiamo affrontata davvero tantissimo sì sì ho visto ieri la trasmissione per me è gol per te è gol Francesco tu l'hai vista sì è gol evidentemente almeno per quanto riguarda la palla che varca la linea di porta lo chiedo anche a te Leonora Gianni anche per me è gol il pallone è oltre la linea della porta si vede proprio dall'immagine che abbiamo visto anche ieri fermo restando che lo diciamo dopo aver visto tutti i 95 minuti di partita Lisernia non avrebbe meritato di perdere anche Giorgio sulla scorta delle immagini ha detto Lisernia ha dominato ci sono state delle occasioni importanti per Lisernia altrettante per il Campobasso che ha fatto un buon primo tempo poi purtroppo c'è questa pecca di calare vistosamente alla distanza e così è successo nel secondo tempo però quando si tengono in bilico le partite succede di perdere giusto? certo l'ago della bilancia può pendere da un lato o dall'altro con qualsiasi occasione in qualsiasi momento mi dispiace per Lisernia che spero si possa rifare in un altro match magari fuori regione o in tutti i match che verranno sarà ripagata dalla deabbendata Francesco Oriente della Molise Tour Bike completiamo questo discorso che riguarda questa società di mountain bike preseduta dal presidente Genarelli che ieri era ospite qui nei nostri studi tu sei un fedele rappresentante da quanto tempo della Molise Tour Bike? purtroppo sono solo due anni però seguo questo sport da una decina d'anni oramai dalla strada alla mountain bike dalle ruote sottili alle ruote grasse su tutti i campi quindi sono solo due anni però diciamo è un periodo piccolo ma che ti ha fatto sviluppare una grossa passione sì ho avuto il ricambio dal calcio al ciclismo per degli infortuni abbastanza gravi però quello che seguo di più è il ciclismo è pratico in questo momento che porta via tanto tanto tempo però è piacevole sì porta via tanto tempo per gli allenamenti sì è uno sport che purtroppo se non gli dai non ti regala è anche per gli spostamenti perfetto allora ne parleremo in maniera più approfondita nel corso della trasmissione voci dal primo stadio quale? Eleonora sì Gianni iniziamo subito perché abbiamo tantissime interviste da vedere e commentare insieme partiamo dal derby tra i Sernia e Campobasso che si è disputato ieri a Lancellotta hanno avuto la meglio il rosso-blu grazie ad un gol segnato al 92esimo da Improta avremo modo di parlarne successivamente ora vediamo l'intervista dell'allenatore del Campobasso Bruno Mandragora e dell'allenatore dell'Isernia Massimo Silva mister Mandragora vincete al 92esimo su una punizione l'Isernia contesta probabilmente non avrebbe meritato di perdere anzi sicuramente può essere la vittoria che vi scioglie in tutti i sensi ma sul non era non poteva perdere oppure non era giusto che perdesse non sono d'accordo perché se guardiamo un attimino le azioni primo tempo se finisce 4-0 per il Campobasso azioni avanti al portiere però questo sapevamo di incontrare un'Isernia in salute in fiducia un'Isernia che si mette là dietro cerca di mettere questa palla dentro e poi non la riesce pure a fare gol il Campobasso oggi ha giocato a calcio consentitemi fuori casa in un derby i derby sfuggono al qualsiasi risultato e ripeto oggi è stato il giusto coronamento a darci un po' di fiducia per proseguire diciamo a fare sempre bene per il pubblico per questa società e per questo diciamo questo gruppo che vuole cercare di fare bene ecco lei ha detto nel primo tempo meritavamo di stare 4-0 avanti allora il problema è stato non realizzare a fine primo tempo forse adesso le azioni davanti al portiere se le ricorda però ripeto tutto quello che abbiamo prodotto non l'abbiamo realizzato poco bisogna essere un po' più cinici ma io parlo di tutto di tutta la squadra perché quando si parla di realizzare si può parlare degli attaccanti non è così gli attaccanti fanno parte di un reparto centrocampisti di un altro difesa è tutta l'orchestra che deve funzionare nel primo tempo ho detto ragazzi prendiamola alle spalle verticalizziamo molto sui lanci di Gianucci penso che ci siamo presentati tre volte avanti al portiere se siamo un attimo piccinici penso che la partita finisce diversamente contro un'ottima esernia la quale voglio dire non è facile venire qua oggi e fare punti con una squadra che schiera un 5-3-2 consentitemi che non che non dà spazio è vero che cercate di robustire il reparto offensivo è una voce che circola questa? ma io oggi gli attaccanti che ho me li tengo ben stretti in attesa di Branischi in attesa anche di recuperare Piotr e Branischi oggi avevamo anche Diop infortunato però ripeto è il gruppo che cresce è la squadra che cresce e cresce e ci voleva questa dose di fiducia sperando che oggi in un derby in un derby molto sentito anche dalla città di Campobas noi torniamo nella nostra meravigliosa città con questa bella vittoria una sconfitta che vi lascia l'amaro in bocca lei che spiegazione dà a caldo? che lascia l'amaro in bocca sì per quello sono veramente amareggiato abbiamo fatto una grande partita non abbiamo concesso ad attaccanti di grande qualità come hanno loro grosse occasioni noi ne abbiamo mancate due clamorose però il calcio è questo e dopo l'ultimo minuto per autorete si va sotto bisogna un po' accettare anche se amaramente guardare avanti è una legge del calcio però non vuole tirare le orecchie a qualcuno dei suoi che ha sbagliato delle occasioni importanti fermo restando che non meritavate di perdere questo lo voglio premere sì sì ma io i capelli bianchi ne ho visti di queste situazioni è chiaro che gli errori non bisogna commetterli né in fase difensiva né in fase offensiva noi mi spiace e ripeto per i ragazzi perché una grande partita di grande determinazione impegno perdere così fa male anche se venivamo da una serie di risultati e di prestazioni molto buone e l'abbiamo confermato anche oggi allora Giorgio un commento dopo i due allenatori telegrafico perché sentiremo un'altra intervista l'allenatore del Campobasso è stato abbastanza magnanimo con la propria squadra nei giudizi quello dell'Isernia Silva Massimo non ha detto nulla che fosse contestabile insomma per me ha detto la verità è stato sfortunato non è entrato nemmeno nel merito delle azioni quindi per me ha detto il giusto allora mercoledì Campobasso Savignanese San Nicolò Notaresco Isernia e Agnone Matelica a Trivento sul campo neutro sui due allenatori Campobasso e Isernia Francesco Oriente ma il giudizio dell'allenatore del Campobasso è molto di parte bisogna finalizzare di più sottoporta e per rivedere questa difesa l'Isernia purtroppo sfortunata il calcio purtroppo si dice la palla è rotonda e purtroppo le hanno preso proprio negli ultimi istanti della partita ma tu sei tifoso del Campobasso perché no perché hai detto purtroppo l'Isernia io non pendo per nessuna delle due squadre però sentendoti hai detto l'Isernia purtroppo allora perciò ho fatto questa domanda solo per questo allora capita di andare allo stadio e trovare Cristiano Militello può capitare diciamo probabilmente tu dici dove gioco io no dove giochi tu ecco diciamolo dove giochi tu al quartiere nord non viene lì ancora no però a Isernia si è venuto ed è stato tutta la mattinata ad Isernia ha fatto le sue interviste chiamiamole impossibili ma sono interviste diciamo simpatiche capziose poi le vedremo in onda prossimamente sul canale 5 e noi l'abbiamo intercettato giusto Eleonora sì Gianni era a Lancellotta non ce lo siamo fatti scappare ovviamente sentiamo insieme che cosa ha detto ai nostri microfoni allora allora andiamo a intervistare Cristiano Militello di Striscia la notizia che si sta concedendo ai selfie dei tifosi dell'Isernia buongiorno Cristiano da Striscia la notizia esattamente a vedere il derby tutto molisano sono tutti buoni andare a vedere l'Inter Milan qui ho saputo c'era un altro derby sanguigno quindi non potevo mancare ma poi mica vai a Milano dopo con calma uno stadio alla volta posso fare ho capito allora qui ai Sernia a vedere gli striscioni più particolari sì anche l'umanità diciamo a parte lo striscione come per magia lei ha detto lo striscione è apparso subito una bandiera più che altro insomma a contatto col tifo locale ho già trovato un paio di elementi molto coloriti molto folcloristici guardi prima di venire abbiamo sfogliato Facebook e ai Sernia tantissimi selfie in pieno centro qui in città quindi una visita gradita sì per i selfie dice non solo mi manca il farmacista maresciallo dei carabinieri capo stazione poi l'ho fatto in tutta la città se ne vuole approfittare anche lei spengiamo un attimo facciamo un selfie un selfie intervista con Cristiano Milita abbiamo un video noi del selfie adesso che ce ne facciamo allora e poi coinvolgerà qualcuno per i saluti ai conduttori di striscia la notizia ovviamente ma già già abbiamo dato già stamattina è difficile che rimanga bocca asciutta quindi e poi questo servizio quando lo potremo rivedere? questo tra due lunedì non domani ma tra otto giorni allora su queste interviste Eleonora ma simpaticissimo come sempre è uno stralcio comunque giusto? sì è uno stralcio perché il resto andrà in onda nel TG Sport di domani comunque è stato simpaticissimo secondo me sono curiosa di vedere poi le interviste che ha fatto in giro per Isernia che andranno in onda lo ricordiamo il prossimo 29 ottobre su Canale 5 Francesco Oriente un cabarettista come abbiamo detto è una persona che si presta molto molto alla mano non non tiene la distanza con il pubblico a cui giustamente viene spontaneo avvicinarsi è da notare molto questa cosa eppure lo vedrei a una partita del quartiere nord Giorgio ma non tanto per gli striscioni che non credo ci siano però proprio per quelle sue interviste mi saluti la Hunziker mi saluti Greggio per relazionarsi con il pubblico presente sarebbe perfetto insomma è stata una bella nota di colore la presenza sia a Isernia nelle ore precedenti della partita che proprio allo stadio di Isernia di Cristiano Militello a cui abbiamo dato spazio torniamo al calcio giocato leggiamo la schermata prima di vedere qualcosa relativa a Francavilla Agnone l'anticipo uno degli anticipi della settimana di andata sentiamo dalla nostra Eleonora la schermata delle partite più che la schermata ci legge le partite che si giocheranno mercoledì prossimo il prossimo turno che sarà infrasettimanale 24 ottobre e vedremo Avezzano San Maurese Castelfidardo Francavilla Campobasso Savignanese Montegiorgio Sant'Arcangelo Agnonese Matelica Pineto Jesina Cesena Forlì Giulianova San Giustese San Nicolò Isernia Vastese Ricanatese quindi Campobasso e Olimpia Agnonese giocheranno in casa Lisernia invece in trasferta contro il San Nicolò Sì San Nicolò che viene da due sconfitte consecutive è acceduto lo scettro del primato al Matelica sta risalendo il Cesena davvero bene la San Giustese si giocherà a Triventolo sottolineo Agnone Matelica sarà così per due mesi per l'Agnone ecco quando vanno male le cose Giorgio come all'Agnone ultimamente però il calendario non è che ti aiuta troppo piove sempre sul bagnato perché arriva la capolista certo però l'Agnone dalla sua parte insomma la storia che insomma in Molise se non sbaglio il dodicesimo anno che comunque fa la serie D quindi in un modo nell'altro ce la fa sempre alla fine sembra un personaggio delle fiabbe quindi va bene per l'Agnone lo auspichiamo ma soprattutto diciamo per le statistiche che l'anno scorso il Matelica primo cadde 1-0 ad Agnone e le statistiche poi nel calcio hanno sempre un peso particolare questo lo ricordiamo Campobasso Savignanese è una sfida abbastanza inedita ma ricordo che la Savignanese è una squadra molto equilibrata 7 gol fatti e 6 subiti a proposito di Francavilla Agnone sì in anticipo si è giocata Francavilla Olimpia Agnonese terminata 3-1 per i padroni di casa quindi i Granata sono usciti sconfitti dal Valle Anzuca di Francavilla ai nostri microfoni Antonio Foglia Manzillo allenatore dell'Olimpia Agnonese e Paolo Rachini allenatore del Francavilla è mancato il primo tempo l'analisi è perfetta ci eravamo messi con una disposizione nuova però è stata interpretata malissimo sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista soprattutto di atteggiamento perché poi il modulo lascia il tempo che trova se l'atteggiamento è giusto tutti i moduli sono buoni nel secondo tempo all'intervallo insomma forse abbiamo capito che stavamo facendo una brutta figura quindi siamo entrati con un piglio diverso forse anche complice il cambio tattico secondo me la partita è cambiata sì abbiamo fatto molto bene il primo tempo siamo andati con il doppio vantaggio negli spogliatoi però nel calcio purtroppo le partite non sono mai finite l'avevo anche ne avevo parlato con la squadra le partite basta prendere un gol e riaprire il tutto infatti poi siamo rientrati un pochettino non concentrati con il primo tempo abbiamo subito il gol del 2-1 però poi mi è piaciuta diciamo la capacità di ricompattarsi di tutta la squadra e riportare a caso un risultato importante contro una squadra ostica Francesco Oriente il tuo rapporto con il calcio è un po' conflittuale credo ma io lo leggo da Facebook non c'è nulla di preparato dietro questa domanda allora devo essere sincero ultimamente non seguo più il calcio per quale motivo vedo qualche partita nazionale internazionale al minimo contatto si vola io sono più per il contatto fisico la spallata il tegel duro non sono uno che se le manda a dire diciamo insomma quando avevo iniziato a giocare a calcio la spallata c'era il contatto duro c'era poi col passare del tempo l'infortunio che ho avuto ho diciamo abbandonato un po' la cosa però se capita la partitella il gol quello che diciamo riguarda il calcio diciamo seguo però questa filosofia te l'ha impartita la Molise Tour Bike cioè la mountain bike no assolutamente no quindi l'hai maturata tu stesso negli anni insomma tra l'altro quanti anni hai? 26 anni sei anzianotto no sto scherzando sì sì purtroppo sì va bene allora proseguiamo perché moviola in abbondanza anche se ne abbiamo fatta tanta ieri e oggi vedremo altre azioni al rallentatore Gianni prima di lanciare la moviola volevo dare un'informazione ai nostri telespettatori in particolare allo stadio Civitelle di Agnone sono iniziati i lavori di ristrutturazione quindi lo stadio sarà inagibile fino ad inizio dicembre come avevi anche tu anticipato e quindi tutte le prossime gare l'Olimpia Agnonese le disputerà a Trivento all'Acqua Sant'Anni e quindi la società per diciamo invitare i tifosi Granata a prendere parte a queste partite hanno deciso di ridurre il prezzo del biglietto da 12 euro ad 8 euro comprendendo ecco il sacrificio a cui i tifosi si sottoporrebbero facendo questo viaggio tra Agnone e Trivento perfetto ne prendiamo atto sì volevo dare questa notizia se c'è qualche tifoso Granata in ascolto magari ne può approfittare sicuramente ci saranno dei tifosi Granata che mercoledì raggiungeranno Trivento prego è il momento di vedere insieme il primo blocco di Moviola sul campionato di Serie D a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità Settimo minuto del primo tempo alla Lancellotta torniamo un attimo dietro con il nostro regista Donato Mignogna perché c'è un'azione davvero importante per il Campobasso il lancio di dunque di Merio eccolo qui questo il lancio di Merio azione giudicata tra l'altro regolare dall'arbitro vedete Giacobbe che scatta in posizione regolare però quando arriva davanti a Landi praticamente colpisce il portiere che è anche bravo l'ex portiere del Campobasso a Lisernia perché mette il pallone in calcio d'angolo al quinto minuto del secondo tempo la risposta del Lisernia anche qui andiamo un attimo dietro anche qui si tratta di un'occasionissima per Lisernia per cercare il vantaggio lancio di Fazio per Romano che è in posizione assolutamente regolare l'attaccante in maglia bianco celeste salta i difensori del Campobasso poi nel momento del tiro vedete mette il piede sotto il pallone che eccolo qui eccolo qui vedete mette il piede sotto il pallone e quindi la sfera si impenna ecco vedete invece di centrare la porta affonda il piede sotto il pallone quindi la sfera si impenna e non riesce in questo modo il vantaggio dell'Isernia davvero incredibile quel che accade al sedicesimo perché c'è allora torniamo anche qui dietro ricostruiamo l'azione Romano che salta il difensore rosso-blu di Pierri vedete che va a contrastare l'avversario poi si fa scavalcare davvero in maniera molto molto elementare pallone per Iaboni che colpisce malissimo con l'interno del piede destro e in questo modo veramente si mangia la più ghiotta delle opportunità per portare in vantaggio l'Isernia che alla fine perderà la gara 1-0 ventitraesimo del primo tempo a Francavilla al mare è il primo gol del Francavilla realizzato da Palumbo ma davvero imbarazzante la difesa dell'Agnone perché la palla vedete viene presa da Palumbo che salta due avversari esattamente Page e poi Carrieri e naturalmente in aria non fallisce l'opportunità per il vantaggio abruzzese ma insomma difesa veramente da rivedere 44esimo del primo tempo il secondo gol del Francavilla ci dobbiamo fermare quando calcia esattamente Banegas che è questo giocatore che cerca il cross poi lo trova quando va a colpire il pallone ci fermiamo un attimo proprio ecco qui questo è il fermo immagine vedete proprio a centro area sul dischetto del rigore c'è un giocatore in fuorigioco ma non è quello che colpisce il pallone perché c'è davanti a lui un altro giocatore in maglia giallorossa si tratta di Cruz che è in posizione assolutamente regolare perché è tenuto in gioco dai difensori dell'Olimpia andiamo avanti con le immagini perché parte il cross vedete colpisce proprio Cruz che insacca il gol del 2-0 che abbiamo dimostrato essere un gol assolutamente regolare allora io partirei con Giorgio Barletta dal gol del Giulianova del Francavilla io confondo spesso forse per i colori cromatici giallorossi Giulianova e Francavilla il 2-0 quello che abbiamo visto a me sembra in fuorigioco è un'impressione la tua Francesco no per me sembra stare dietro alla linea dei difensori l'avrei dato cosa che poi è avvenuta perché il gol è stato convalidato su Isernia Campobasso abbiamo rivisto ecco Moviola l'abbiamo fatta ripeto davvero a grandi quantità ieri sera a Domenica Sport per quanto riguarda le azioni viste la grande parata di Landi su Giacobbe i due errori dell'Isernia probabilmente i due errori a distanza di poco tempo l'uno dall'altro in una fase decisiva alla fine Romano e quelli che abbiamo rivisto in fase offensiva sono stati errori che alla fine hanno portato purtroppo hanno portato alla sconfitta perché in quelle occasioni una di Iaboni se non erro la prima di Romano la seconda di Iaboni la più clamorosa secondo te conoscendo i giocatori per me quello che ha sbagliato Iaboni è incredibile conoscendo Iaboni e le sue qualità perché è freddo lucido sempre ha una capacità realizzativa incredibile mi sembra strano è stato sfortunato magari la tensione del derby non lo so sì e poi lui ha voluto rilasciare una dichiarazione come abbiamo detto nel servizio in cui si è scusato Francesco Oriente le due occasioni dell'Isernia la più nitida per te di quelle della Moviola anche per me quella di Iaboni sembra quasi aver ciccato la palla diciamo mezzo liscio qualcosa gli sarà successo beh devo dire che poi lo racconto questo aneddoto a intervista ferma a microfoni spenti ho detto come mai Armando lui ha detto ho ciccato il pallone quindi come hai detto tu quindi il sembra lo togliamo chiaramente può succedere in A in B in C e succede anche in D a questo punto è successo a Iaboni ed è finita 0 a 1 Eleonora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicitare state con noi a tra poco puntata numero 218 di Molise a calci dedicata al calcio come dice il titolo della nostra trasmissione ma anche alla Molise Tour Bike e c'è Eleonora che vuole fare qualche intervento con il nostro ospite Francesco Oriente prego Eleonora sì Francesco come dicevamo prima tu sei tesserato con la Molise Tour Bike hai partecipato all'Abruzzo Cup i tuoi compagni hanno partecipato al circuito dei parchi naturali si sono distinti insomma avete avuto a che fare con i big delle ruote grasse e avete portato il nome del Molise in giro per tutta Italia ecco in vista dell'apertura delle iscrizioni per tesserarsi con la vostra associazione con la vostra società ti volevo chiedere che cosa ti ha spinto che cosa ti ha appassionato di questa attività di questo sport e appunto cosa ti ha fatto abbandonare poi il calcio oltre all'infortunio che hai avuto per dedicarti poi al completo a questa attività allora quello che mi ha spinto a legarmi a questi colori a questa maglietta a questa divisa visto che parliamo di calcio diciamo è stata la grandissima compattezza che c'è in questo gruppo che ho notato già dall'anno scorso conoscevo all'inizio pochi individui poi pian piano chi ti invoglia su un lato chi da un l'altro la parte mentale del gruppo è proprio questa compattezza partiamo insieme arriviamo insieme il giro domenicale tutti insieme ed è quello che mi piace di più per quanto riguarda il ciclismo in sé per sé quello che mi spinge ogni volta a salire in sella è devi spingere devi andare quello che riesci a fare lo fai per te stesso non lo fai per gli altri a differenza del calcio una giornata che va male a un giocatore ci sono altri dieci che ti possono coprire le spalle in bici se non va quella giornata la bici non cammina da sola come il tennis Francesco sì quindi amici sport individuali abbiamo capito questa massima diciamo che è assolutamente rispettabile anzi ti chiederemo qualcosa sui sentieri nel corso della trasmissione noi andiamo a vedere il primo contributo relativo al campionato di eccellenza prego Leonora sì la prima partita che andiamo ad analizzare è Sesto Campano Vasto Girardi la capolista Vasto Girardi esce vittoriosa anche da questo match infatti la partita viene vinta da loro per 3 a 0 Pierpaolo Amodei ha intervistato per noi l'allenatore del Vasto Girardi Francesco Farina e il presidente del Sesto Campano Girolamo Silvestri i ragazzi hanno fatto un buon approccio alla partita i primi 20 minuti del primo tempo potevamo stare pure sul 2 a 0 poi la seconda parte del secondo primo tempo abbiamo fatto un po' di casino una partita molto nervosa poi nel primo tempo poi nel secondo tempo abbiamo giocato bene potevamo fare più di un gol e diciamo che il 3 a 0 penso sia un risultato giusto oggi nel secondo tempo ho fatto giocato i vizi a destra per equilibrarlo un po' cerchiamo di avere lo stesso equilibrio dalle stesse sinistra sicuramente quando è a che fare su una catena con giocatori come Sabatini dei vizi e pettrone deve essere per forza la catena più forte quindi ogni tanto cerca di romperlo e mando dei vizi di là però l'importante è che i ragazzi corrono facciano sacrifici si impegnano quasi a corto questa è una cosa importante noi sapevamo che erano due partite difficili diciamo che domenica a Guionese ce l'abbiamo giocata fino alla fine insomma forse non meritavamo una sconfitta oggi purtroppo nel senso negativo da parte nostra il vasto girato diciamo c'è qualcosa ma molto di più di tutti quanti insomma una squadra che sicuramente il campionato può perdere solo la che è fortissima abbiamo fatto del nostro meglio diciamo il primo tempo diciamo quell'occasione del ricore che non so poteva starci non poteva starci poi il secondo tempo abbiamo fatto abbiamo diciamo fatto nella strada per cercare di perdere la partita abbiamo fatto quella fesseria in difesa dove per perdere 2 a 0 insomma non è facile insomma recuperare già con una grande squadra però diciamo che abbiamo fatto il nostro meglio per cercare di portare a termine almeno l'impegno insomma di fare qualcosa giocattamente contro i vasto girati penso si può fare poco quasi niente per la cronaca domenica prossima si giocherà Vasto Girardi Treppini che sicuramente sulla carta è una partita interessante possiamo vedere con la Giorgio Barletta se possibile mi riferisco a Angelo Pompei e Daniele Ricciuto che ringrazio la classifica di eccellenza parziale eccola qui subito mostrata dopo 7 giornate vedi Giorgio il Vasto Girardi la domanda che ti vorrei fare è questa quale può essere tra quelle che inseguono la vera antagonista del Vasto Girardi per me il Venafro il Boiano è una splendida realtà allenata bene molto bene a Gioffre che dall'anno scorso ha fatto un progetto diciamo lungimirante cioè l'anno scorso ha iniziato con dei ragazzi infatti tutti i giocatori che hanno giocato lì l'anno scorso mi dicevano che gli allenamenti erano interminabili ci si allenava tutti i giorni per tantissime ore e quest'anno si vedono i risultati stanno andando benissimo sì stanno andando davvero bene infatti è secondo il Boiano quindi tu credi nel Venafro e a proposito del Venafro c'è stata questa vittoria esterna 4 a 3 sul campo di un Termoli che evidentemente è in crisi a te Eleonora sì Gianni questa partita è stata anche il debutto per mister Peppe Capaccione chiamato a sostituire De Bellis ed è la quarta sconfitta consecutiva per il Termoli Antonio Di Monaco ha intervistato per noi il presidente del Termoli Marco Castelluccio Marco Castelluccio presidente del Termoli si è visto in campo una squadra combattiva volitiva che ha davvero dato anche l'anima e anche di più poi il risultato purtroppo in queste prime sette partite abbiamo subito già circa nove rigori contro e siamo sette non dati a noi la squadra non ha demeritato assolutamente di perdere oggi infatti io da oggi in poi ho detto ai ragazzi non parlare facciamo senso stampa perché è impossibile per me calcio di rigore netto su Cotello e l'abito non fischia ripartenza calcio di rigore per Benafro a due minuti dalla fine abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere assolutamente anche io mi lamento pure con la federazione con l'AIA purtroppo sappiamo che noi abbiamo problemi con l'AIA proprio perché ci manda albitri che guardano solo la squadra avversaria l'abito il secondo tempo ha fischiato a senso unico tutto a favore del Benafro ma tutto non ha visto qualche schiappetto al centro campo del signor Panico verso un 2000 quindi nulla togliere al Benafro che è una bella squadra andiamo avanti con i contributi filmati la bella vittoria del Rocca Sicura Giorgio è una bella realtà questo Rocca Sicura che ha battuto il Matese 2 a 0 e ha battuto anche il Benafro una settimana fa in trasferta sì Rocca Sicura io lo ricordo per anni faceva del proprio campo un fortino inespugnabile ricordo che c'era una scritta sul muro se non sbaglio lasciate ogni speranza voi che entrate dantesca sì sì saldo al campo di Rocca Sicura poi hanno una dirigenza molto forte dietro e hanno preso giocatori di categoria il campo è piccolo e loro lo conoscono lo conoscono bene l'ambientamento in eccellenza è stato davvero rapidissimo per la squadra di mister Bonomi Rocca Sicura Matese Eleonora sì in merito a questa partita Maria Antonietta Tortola ha intervistato l'allenatore del Rocca Sicura Claudio Bonomi e il giocatore del Matese Luca Gentile mister Bonomi dall'ultima sconfitta in casa sono passati altri due match e due vittorie il Rocca Sicura insomma comincia a sognare beh sì due vittorie due vittorie importanti dovevamo dare continuità alla vittoria di sabato per un tempo ci siamo riusciti il secondo tempo soprattutto quando ho detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo che non dovevano avere la frenesia nel giocare la palla ma dovevano stare un po' più tranquilli e sereni il secondo tempo ci abbiamo creduto di più e si è vista un po' la differenza fra i due tempi diciamo che il Matese è una grande squadra organizzata si chiude molto bene dietro poi ripartono con le ripartenze giustamente hanno dei giocatori con queste caratteristiche per noi penso una buona partita anche se il risultato penso sia molto bugiardo nella prima frazione abbiamo avuto molte occasioni purtroppo non capitalizzate però una buona formazione messa in campo abbiamo lottato fino all'ultimo contro un buon Rocca Sicura ben organizzato con un ottimo allenatore senza dubbio una buona partita purtroppo il risultato è andato male però una buona partita allora domenica prossima altra partita interessante valida evidentemente per il contesto salvezza fra FVP Matese e Termoli Termoli che come diceva Eleonora D'Aversa è reduce da quattro sconfitte consecutive Francesco Oriente a proposito dei sentieri che sono a volte ostici raccontaci qualche episodio qualche sentiero difficile da scalare ma più che sentieri tanto dipende dal fatto di saper guidare il proprio mezzo di sapere dove si devono far appoggiare queste ruote grasse la bici come abbiamo detto non va da sola tanta esperienza ci vuole infatti quest'anno sono stato protagonista di due o tre cadute di cui un paio abbastanza gravi però senza nessuna conseguenza ecco ma cadute non gravi però nella più grave delle ipotesi che cosa potrebbe succedere ad un biker dipende torna facendo nel senso si può arrivare anche a qualcosa di molto brutto senza che la nominiamo però si può arrivare alla rottura del bacino clavicola qualche distorsione varia qualche distorsione è qualcosa di meno grave la rottura del bacino clavicola come abbiamo detto dipende dall'entità del botto comunque si raggiungono velocità molto elevate quindi che tipo di preparazione fate per affrontare questi circuiti poi? la preparazione per il ciclista è un po' un tabù cioè nel senso che ogni ciclista segue una preparazione a lui adatta non tutti siamo uguali non tutti prediliggiamo i stessi i stessi sentieri nel senso c'è chi spinge di più in salita chi più in pianura chi ha più manico per la discesa e così via ovviamente il biker il ciclista avario va ad approfondire il terreno oppure l'allenamento dove riesce tra virgolette a sfondare di meno torniamo al campionato di eccellenza con la vittoria della Frentania sul Riccia di Misura prima vittoria casalinga per la Frentania e seconda vittoria stagionale la Frentania porta a casa questa partita grazie ad un gol di Finizio classe 2002 e vince 1-0 contro l'Olimpia Riccia appunto Pino Somma ha raggiunto per noi Leo Tanga l'allenatore della Frentania e Mario Cordone allenatore dell'Olimpia Riccia Mister Leo Tanga come l'anno scorso che ha segnato un serrano anche contro il Riccia ci è voluto un ragazzo del posto Finizio per risolvere una partita che diciamo che avevate in pugno la stavate giocando nel migliore dei modi anche se Riccia tutto sommato aveva ribattuto colpo su colpo sì sono felice per il ragazzo che quando insomma è stato l'esordio l'esordio è anche fortunato niente chiaramente è una boccata d'ossigeno per noi ma questo dimostra che poi i ragazzi se hanno lo spirito giusto capiscono che nulla verrà regalato cioè si devono conquistare lo spazio però io dopo non ho paura e non sono restio se vedo le qualità a dargli l'opportunità e così è stato ci è andato anche bene quindi ma io penso che nel contesto generale insomma abbiamo una rosa un po' ristretta però nello stesso tempo anche un po' valida diciamo oggi i ragazzi secondo me hanno fatto comunque una grande partita senti con la Frentana invece come l'hai visto? sapevamo che loro venivano da una situazione un po' critica insomma nello stesso tempo insomma non ci hanno creato tanti problemi però alla fine bisogna riconoscere che poi il calcio è il conto del risultato loro sono stati bravi a coprirsi bene anche con un po' di fortuna e nello stesso tempo a essere cinici a sfruttare l'unica occasione che gli abbiamo dato oggi è la giornata anche dell'elezione praticamente un plebiscito del presidente nuovo della FIGC Gabriele Gravina ex presidente evidentemente della Lega Pro che appena insediato qualche ora fa ha dichiarato deve essere da oggi in poi un momento di svolta per il calcio italiano Giorgio Barletta ha parlato anche dell'impiantistica sportiva cercheremo di partire dagli stadi ha detto Gravina neopresidente eletto ma io sono per la privatizzazione degli stadi almeno quelli di serie A se si vuole partire dall'impiantistica si deve partire dal basso nel senso che come abbiamo visto le immagini proprio dell'ultima partita a Serra Capriola non ci può essere questa disparità di trattamento a livello proprio statale a livello amministrativo tra comuni che possono usufruire di campi in erba sintetica di ultima generazione e comuni tipo Serra Capriola che hanno campi interrabattuti non è nemmeno possibile che se non sbaglio fino a 4-5 anni fa si usufruisse ancora dei fondi per Italia 90 quindi c'è qualcosa che va male a livello burocratico nella divisione di questi soldi quindi secondo te insomma il discorso non fila oppure come discorso di partenza può essere bene incoraggiante ma no non fila perché non è non è dagli impianti che secondo me non sono gli impianti il problema più la gestione delle risorse umane eventualmente del calcio italiano non sono certo gli impianti chiaramente questo è uno stralcio di quello che ha detto Gravina nel suo discorso di insediamento allora andiamo avanti vedendo l'ultimo contributo filmato di eccellenza Eleonora Acli Campodipietra Alife finisce 5-0 per i padroni di casa Daniele Genovese ha intervistato per noi Carmine Rienzo allenatore delle Acli Campodipietra e Gianmarco Raviele difensore dell'Alife Oggi era importante il risultato era importante vincere con una diretta concorrente ed era fondamentale fare i tre punti questo è stato poi a livello di dobbiamo sempre lavorare non stare sul piedistallo dobbiamo migliorare e ora abbiamo mercoledì la Coppa e cerchiamo di dare anche se faccio ruotare un po' di persone però dobbiamo migliorare ancora Mister lo avevamo detto anche in altre interviste il vostro campionato iniziava la quinta giornata e così è stato Sì anche se noi ripeto siamo partiti in buon ritardo perché poi stranamente i risultati quei 15 giorni di lavoro poi ce lo siamo ritrovati ora però va bene ci sta quando perdi col Vasto Girardi quando perdi col Boiano non ci stanno altre sconvitte però ripeto dobbiamo ora dobbiamo essere bravi pensare a lavorare senza montarci la testa secondo me siamo molto sfortunati non riusciamo a trovare un punto giusto della squadra poi gli albitri mettono la loro questo quindi comunque la prestazione per voi è stata positiva Sì sì nei primi 30 minuti penso che abbiamo giochato molto bene dopo come avete detto voi l'espulsione siamo un po' innervositi e non abbiamo capito più nulla da come vedo siamo abbastanza forti tra virgolette però ci manca un gioco delle esperienze aperta e chiusa parentesi rivedeva con piacere Francesco Oriente il mister che tu hai avuto ci riferiamo a Carmine Rienzo in un recente passato quindi non troppo recente questo passato comunque lo hai sei stato allenato da Carmine Rienzo allora noi dopo una parte una seconda parte di Molise a calci dedicata all'eccellenza davvero molto molto ricca dobbiamo fermarci per pochissimo Eleonora Secondo e ultimo stop pubblicitario restate con noi ci vediamo tra pochissimo per gli ultimi due servizi della trasmissione puntata numero 218 di Molise a calci allora dobbiamo vedere come diceva altri due contributi come diceva Eleonora e allora subito a te la parola perché devi annunciare un qualcosa di importante è il momento di vedere il secondo blocco di Moviola sui campionati di eccellenza e promozione questa volta sempre a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campopasso Ripalimosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce e brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità Quinto minuto del secondo tempo a Sesto Campano davvero grottesca la difesa del Sesto Campano perché se torniamo un attimo dietro in sostanza c'era un attacco del Vasto Girardi qui sta per intervenire il numero 4 in maglia rossa si tratta di Di Baia che poi si ferma per non colpire il suo compagno di squadra perché insomma si era tuffato il suo compagno di squadra si tratta di Papa e quindi Di Baia vedete evita di colpire il pallone mancato da Papa resta sui piedi di Calcagni sul quale c'è un fallonetto del portiere del Sesto Campano russo questo è calcio di rigore tutta la vita anche se regalato in maniera ingenua dagli avversari dagli 11 metri va a realizzare Calcagni tante contestazioni a termo li vediamo di mettere ordine qui siamo al secondo minuto del secondo tempo c'è un fallo di Pesce giocatore del Venafro con la maglia numero 3 su Camponesco vedete il piede sinistro di Pesce giocatore in maglia scura che va non colpisce il pallone va a colpire se andiamo avanti vedete la coscia di Camponesco vedete qui proprio l'intervento sulla coscia questo è sicuramente calcio di rigore giustamente concesso dal signor Martinelli di Ostia dagli 11 metri Mallardo è un'azione stranissima perché se torniamo un attimo dietro si vede Mallardo respinge Roncone ma al Cannazza c'era un grandissimo vento per cui vedete la ribattuta di Roncone poi il pallone con uno stranissimo effetto è trasportato dal vento finisce prima sul palo e poi in rete è il 2 a 2 del Termoli 39esimo del secondo tempo mancano 6 minuti sul risultato di 3 a 3 c'è questo calcio di rigore chiesto dal Termoli vedete Camponesco che entra in aria qui in realtà sicuramente il giocatore del Termoli si lascia cadere però ecco diamo un attimo dietro perché si vede chiaramente il braccio del numero 5 del Venapro si tratta di Scippa eccolo qui vedete il braccio di Scippa che trattiene il braccio sinistro di Camponesco poi Camponesco si lascia cadere ma per noi qui potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore in favore del Termoli perché comunque c'era stata la trattenuta di Scippa su Camponesco l'arbitro in questo caso ha lasciato correre un minuto più tardi c'è questa entrata davvero scomposta di Traino giocatore con la maglia giallo-rossa su rega lanciato a rete colpisce nettamente i piedi dell'avversario ecco siamo in aria colpisce il piede destro di rega il giocatore del Termoli questo è sicuramente calcio di rigore qui l'arbitro lo ha concesso e dopo tantissime proteste perché ci sono state tantissime proteste Panico dagli 11 metri ha insaccato il gol della vittoria venafrana all'antistadio Acli calcio di rigore per il campo di Pietra seguiamo l'intervento del giocatore in maglia gialla si tratta di Ianniello vedete che va a colpire il piede destro di esattamente Moffa questo è sicuramente calcio di rigore perché vedete arriva il giocatore sulla sinistra del teleschermo in maglia gialla colpisce il piede destro di Moffa e quindi è calcio di rigore giustamente concesso dal signor Romei di Isernia dagli 11 metri il 2 a 0 del Zingaro 24esimo del primo tempo a Serra Capriola vedete che cosa sbaglia il Riccia l'azione bella di Morsillo che vedete lancia nello spazio Pellegrino il cross di Pellegrino davanti alla porta della Frentania c'è Guglielmi andiamo un attimo dietro tutto solo il quale praticamente doveva soltanto spingere il pallone in porta eccolo qui invece Guglielmi vedete colpisce la sfera con lo stinco la sfera si impenna e poi viene praticamente spazzata dai difensori della Frentania che nel secondo tempo vincerà 1 a 0 26esimo del secondo tempo a Rocca Sicura dove la squadra locale ha vinto 2 a 0 qui grande intervento del portiere del Rocca Sicura Iarussi andiamo un attimo dietro perché in sostanza c'è un cross in mezzo arriva il giocatore del Matese Riccio vedete che batte con il destro Iarussi qui già fa una bellissima parata perché devia il pallone sul palo ma non basta perché se andiamo avanti arriva Iameo questa è la prima parata Iameo vedete arriva sempre per il Matese e Iarussi compie un altro intervento vedete Iameo e Iarussi salva la sua porta da un gol praticamente sicuro a Baranello finale del primo tempo c'è questo calcio di rigore concesso dal signor Maglioli di Isernia rigore che non c'è assolutamente tra l'altro Maglioli ha anche espulso Mussa che è il giocatore in maglia gialla per fallo da ultimo uomo ma il fallo se andiamo piano vedete è fuori aria perché questo è il momento in cui il giocatore in maglia gialla si tratta di Mussa tira giù venditti siamo fuori aria poi venditti nella corsa cade in aria l'arbitro il signor Maglioli di Isernia prende un granchio clamoroso perché espelle Mussa e concede un calcio di rigore al Baranello che non c'era dagli 11 metri poi andrà a realizzare il 4 a 1 Colalillo finale invocato a Ripalimosani vediamo perché sta vincendo in questo momento il Ripalimosani 2 a 1 allora parte il cross su calcio di punizione della Doink e Sagnone vedete San Martino che è il giocatore in maglia bianca che va in qualche modo ad ostacolare l'uscita del portiere del Ripalimosani Colardo vedete ecco qui vedete San Martino che salta Colardo non riesce ad intervenire no fermiamoci prima perché in sostanza l'arbitro il signor Michele Matarrese di Termoli ecco vedete questo è il fallo sicuramente c'è una spallata di San Martino a Colardo portiere del Ripalimosani l'arbitro in questo momento fischia quindi interrompe il gioco se andiamo avanti vedremo che poi c'è un colpo di testa del numero 6 della Doink con Antonello Conte che va a deviare il pallone con un braccio quasi una parata diciamo di un portiere questo chiaramente sarebbe calcio di rigore ed espulsione per il giocatore del Ripalimosani ma tutto questo non contava perché il gioco era stato fermato dal signor Michele Matarrese in precedenza vedete arriva l'arbitro e indica il posto da cui bisogna ripartire con un calcio di punizione secondo noi è stata giusta l'interpretazione di Matarrese Allora andiamo a ripercorrere qualcosa come il rigore dato al Baranello secondo me era fuori area il fallo su Venditti quindi anche tu hai visto la stessa cosa del direttore il calcio di rigore invece dato al Campodipietra poi trasformato da Delzingaro Francesco Oriente sì il fallo c'era Anitto mentre ha chiesto un calcio di rigore il Termoli nel corso di Termoli Benafro se lo ricordi ricordo che la mia impressione era che avesse avuto ragione l'arbitro non ricordo l'azione nello specifico però ricordo che quando vedevamo le immagini avevo avuto l'impressione quindi niente rigore secondo te per il Termoli mentre il rigore segnato dal Termoli lo ha fatto il Vento Francesco Oriente si può dire Eolo lo ha spinto in rete una traiettoria stranissima dopo la parata del portiere la palla ha varcatto la linea di porta ed è entrata ed è entrata e allora Eleonora noi ci concentriamo dopo la moviola su che cosa? è arrivato il momento attesissimo Gianni di vedere il top e flop guardiamolo insieme giornata giornata piena di top ne scegliamo due in altrettanti ambiti diversi bravissimo Nardacchione della Chaminade a segnare il terzo gol dei suoi facendo praticamente tutto il campo ma bravo anche Devizia del Vasso Girardi che indovina l'angolo lontano e chiude i conti in casa del sesto campano Flop a Iaboni dell'Isernia che si divora il gol del possibile vantaggio dell'Isernia nel derby contro il Campobasso nella fase migliore dei suoi a fine gara Iaboni chiederà anche scusa un gesto che fa sicuramente onore Allora detto bene Eleonora le scuse fanno sempre onore nella fattispecie le ha chieste Iaboni concentriamoci sui top 2 uno di Nardacchione della Chaminade che è un ex calciatore a 11 Giorgio e poi quello di Devizia per me Nardacchione è un fenomeno inespresso è uno dei pochi ragazzi che dal Molise avrebbe dovuto andare via e avrebbe sicuramente raccolto quanto meritava con Zurlo con Esposito che è proprio l'emblema di questa categoria di persone perché sono fenomeni che magari il fatto di essere nati in Molise per loro è stata una diminuzione è stata una difficoltà in più da superare perché avrebbero dovuto giocare fare i calciatori per professione Devizia è un gol splendido Devizia è un gol splendido Francesco il cosiddetto golazzo golazzo un bel gol un bel gol allora siamo arrivati alla conclusione di questa puntata numero 218 di Molise a calci io ringrazio l'amico avvocato esportivo come ha sottolineato Eleonora Giorgio Barletta che spesso viene diciamo puntualmente una volta all'anno a trovarci in redazione segue davvero costantemente i nostri programmi grazie Giorgio grazie a voi grazie di avermi invitato grazie di tenerci compagnia la domenica pomeriggio e lunedì sera in particolar modo per gli sportivi poi tutta la settimana per chi segue il resto della programmazione e i TG Sport ovviamente grazie al nostro amico biker Francesco Oriente della Molise Tour Bike con te chiudiamo questa parentesi che abbiamo inaugurato ieri sera con il presidente Gennarelli ma ci ci prepariamo per questo 2019 come abbiamo detto i tesseramenti stanno per essere riaperti speriamo di fare qualcosa in più in confronto all'anno scorso in bocca al lupo a tutti i ciclisti molisani e in bocca al lupo a te in particolare che sei venuto a trovarci in redazione grazie Eleonora è stato un piacere anche per me Gianni come sempre ringrazio te ringrazio i nostri ospiti e ringrazio tutti voi che ci seguite da casa è giunta al termine anche questa puntata di Molise a Calci io vi ricordo l'appuntamento sempre a lunedì prossimo alle 21 con Gianni ed Erika Rico vi auguro un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Tele Molise buona serata a tutti Molise a Calci in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sannio Consul Brokers SPA Piazza della Repubblica 14-A Campo Basso Broker di assicurazione Molise a Calci Piazza della Repubblica